Le idee sono queste, la mobilità è una delle nostre cose, la sovranità è un'altra delle nostre cose, le energie rinnovabili, l'acqua pubblica, la scuola pubblica, lo Stato deve ritornare a fare lo Stato, non in concorrenza economica ma mettere dei paletti, paletti dello Stato. Non è che non si cambia, sentiamoci, 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 non chiamassi, facciamoci, aiuta voi con i pevoli. Tutto è fatto in casa. Abbiamo la scalzata. Qua a destra c'è un parco che abbiamo fatto a Scordia, l'abbiamo creato da zero, parco Grotta del Drago, bravolo ci sono delle grotte preistoriche là sotto in fondo, questo, questo.